Durante la notte di Halloween, Rondo Sosa e tutti gli amicini alla San Siro stavano festeggiando veatamente in un loft a ben 2.500 euro a notte con piscina, sauna e spa. Purtroppo la serata è stata interrotta dalle forze dell'ordine in quanto i ragazzi erano più di 20, tutti quanti senza mascherina ovviamente violavano il nuovo DTCM, che dice che le peste in casa si possono fare ma fino a un massimo di 6 persone, e quelle dove due caluzioni come la mascherina. I ragazzi sono stati tutti quanti denunciati e non se avranno altre pene, oltre ovviamente alla sanzione economica perché prenderanno una multa, presumo. Per questo stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, specialmente con gli articoli di giornale, per capire meglio la situazione. Vi lascio quindi le stories della festa e dell'ingresso dei carabinieri, perché appunto sì, sono stati ripresi da Rondo. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo un prossimo video in linea, allo studio. Ciao ci vediamo un'altra